Una battuta leggera accompagnata dal ritornello di soldi di Mahmood ha catturato l'attenzione del pubblico durante la chiacchierata tra Caterina Balivo e gli ospiti della Volta Buona. La frecciatina, lanciata nel corso della puntata di lunedì 21 ottobre, era diretta a Teoma Mucari, mentre si discuteva delle ultime novità di Ballando con le stelle. I telespettatori si chiedevano perché il conduttore, che ha partecipato alla scorsa edizione del Dance Show, non fosse mai stato ospite del programma di Caterina. Anastasia, tu sei assente da un anno, perché Teo non l'abbiamo mai visto? Ha chiesto Balivo a Kusmina, ex ballerina con Mammucari, e ora in coppia con Francesco Paolantoni. Quando Paolantoni ha chiesto se fosse venuta con Teo, si è creato un momento di silenzio. È stata Balivo a rompere il ghiaccio cantando «Voleva soldi, soldi, soldi», swingendo le mani e strappando sorrisi al pubblico. Rossella Erra racconta il retroscena su Sonia Bruganelli. Nel corso della puntata è stato discusso anche l'episodio dello spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli, quest'ultima eliminata per volere del pubblico, ma poi salvata con la cosiddetta «wild card» di Sara Di Vahira. Rossella Erra ha assicurato che nessuno ha convinto Sara a «salvare» Sonia. Secondo lei, Sonia meritava una seconda chance. Ha assicurato la «tribuna del popolo». Sara non ha fatto un dispetto. Qui significava dare un'altra occasione sia a Sonia sia al programma. Il programma può aiutare Sonia a cambiare, come già sta facendo. Grazie a tutti.